Preghiera della Sera Tu sia adorato, Signore Gesù Cristo. Tu sei la nostra via verso il Padre. E adorandoti, io adoro il Padre. Grazie per il dono della fede che dà la vita. Conforta la mia fragile fede e insegnami come agire per amore. Converti tutti gli uomini della terra affinché nessuno dei nostri fratelli e sorelle si perda e compaia per un giudizio di condanna davanti al Tuo Tribunale quando verrai per virtù del Padre. Dà alla Chiesa la forza dello Spirito affinché noi diventiamo gli strumenti di una conversione universale. Amen.